ciao grazie per il video oggi voglio dirvi una cosa importante ragazzi e ragazzi oltre a roma e perché domani c'è la roma roma epoli domani forse farò anche una reaction a roma liripool perché ragazzi c'è un problema e poi a roma ci hanno i domani e oltre a roma perché sennò ti invitano subito e anche a roma che ha quindi dico questa cosa su youtube occhio a voi ragazzi occhio perché domani c'è la roma liripool quindi ragazzi scegliamo al prossimo video oggi è una cosa scegliamo al prossimo video iscrivetevi sul canale di marzo numero 7 iscrivetevi e anche su social e anche su facebook ti lascio anche forse vabbè forse instagram e scegliamo al prossimo video beh ragazzi ciao